Ci troviamo ai piedi del splendido simulacro di Maria Santissima della Fontana con il presidente del Comitato Festa, Matteo Calabrise. Ecco, la macchina organizzativa è già attiva da dicembre. Come si sta organizzando il Comitato? Quali sono le novità che aspetteranno quest'anno i torri maggiorisi? I preparativi stanno in fermento. Inizieremo la festa con le benedizioni dei mezzi, dei trattori. Subito dopo ci sarà la processione di due giorni, sia martedì che mercoledì. Poi con tanti spettacoli e intrattenimenti, da cui faremo le fondanni danzande, uno spettacolo per la prima volta qui a Torremaggiore, dove ci sarà un bello spettacolo. Ci saranno tante batterie del tipo Sanseverese, funchi e poi spot dei cantanti che ci saranno sia il martedì, il mercoledì e anche il lunedì. Veramente ci sarà un bello spettacolo. Finiremo il giovedì con lo spettacolo finale, con il concerto di Francesco Cicchella. Qual è il valore aggiunto dei turisti per i torri maggiorisi e per i festeggiamenti in onore della Vergine della Fontana? Sicuramente questa festa, oltre ad essere un rito religioso, è ben visto, anzi la Madonna della Fontana. Stiamo aspettando che forse ci farà qualcosa per la pioggia, perché qui è un paese agricolo e ha bisogno di acqua. Speriamo che la Vergine ci farà questo miracolo anche quest'anno. Sicuramente tutti i turisti che verranno troveranno l'accoglienza, un'ottima festa e intrattenimenti di vario genere. Iniziamo dalla sera di Pasqua con l'evento dei Tenuri, subito dopo ci sarà anche una banda il martedì e comunque spettacoli per i ragazzi e per i giovani. Aspettiamo numerosi i turisti che verranno a trovarci. Emilio Di Pumpo, sindaco di Torre Maggiore. Ecco, come si sta preparando la città per festeggiare la Madonna della Fontana? Buongiorno, sì, la città è in fermento, le luminarie sono quasi terminate, ora si sta montando anche qui su piazza in coronazione, dove mancano gli ultimi tasselli di questo bellissimo mosaico che è diventata piazza in coronazione. Nei prossimi giorni termineremo anche di bitumare alcune strade, accoglieremo al meglio Maria Santissima della Fontana come si fa da anni oramai. Una festa molto sentita a cui i cittadini sono devuti alla nostra cara Maria Santissima della Fontana, soprattutto i nostri agricoltori che invocano questa Madonna per l'acqua, fonte di vita per la nostra agricoltura. Noi saremo qui ad accogliere, ad acclamarla, emozionati e commossi come sempre. Allora vi aspetto tutti quanti a questa bellissima festa della Madonna della Fontana.